ciao ragazzi sono luca mosca giocatore della prima squadra e istruttore mini basket oggi per la nostra prima mini lezione faremo dei giochi sul palleggio e ci serviranno no questo non ci serve ci serviranno un pallone e una bottiglietta d'acqua il primo gioco servirà a prendere confidenza con appunto gli strumenti e andrà e andremo semplicemente a scambiare il pallone con la bottiglietta d'acqua per il secondo gioco andremo a lanciare la palla con una mano la mano dovrà stare sempre sotto la palla e con l'altra mano andremo ad afferrare la bottiglia la mano in questo caso dovrà stare sopra la bottiglia per il terzo gioco invece invertiamo il gioco precedente quindi andremo a palleggiare con la palla da basket e lanciare la bottiglietta d'acqua quarto gioco useremo la bottiglia come punto di riferimento e la mettiamo a terra e andremo a eseguire dei cambi di mano frontali sotto le gambe dietro schiena in sequenza per il quinto esercizio e ultimo la bottiglietta non ci serve più usiamo solo il pallone faremo delle sequenze diverse da quelle di prima usando un braccio nelle varie direzioni ragazzi naturalmente trovate uno spazio a casa per non rompere i vasi della mamma va bene leopardo di praia grazie a tutti a